Ciao a tutti! Oggi prepareremo le gelatine alla Coca-Cola. Il tempo di preparazione della ricetta è di 17 minuti circa. Ingredienti sono Coca-Cola, fogli di gelatina di colla di pesce e zucchero. I quantieri di video e gli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo vitiricettebimbi.blogspot.it. Andiamo il via alla ricetta. Andiamo a mettere nel boccale la Coca-Cola e lo zucchero. Facciamo cuocere per 15 minuti. Temperatura varoma, velocità 2. Nel frattempo andiamo ad ammollare i fogli di gelatina di colla di pesce. Adesso andiamo ad aggiungere i nostri fogli di gelatina di colla di pesce ammollati e strizzati. E continuiamo con la cottura per altri 2 minuti, sempre a temperatura varoma. velocità 2. Il nostro composto è pronto. Andiamo a trasferire in un boccale per riempire i nostri stampini in silicone. Noi per questa occasione abbiamo utilizzato come stampini in silicone gli stampini per i waffle girati al contrario in modo tale da far venire più gelatine. Dopo aver riempito i nostri stampini andiamo a riporre il tutto in frigo per almeno 4 ore. gelatine alla Coca-Cola. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.